next gems questo apportamento davvero di rilievo organizzato da twin e virgilio che hanno deciso di far incontrare investitori e le aziende small cap che decidono di approcciare i mercati finanziari perché o sono già quotate oppure intraprendono il percorso della quotazione e questo è molto importante perché ci sono segnali che giungono dai mercati finanziari compreso ovviamente quello per quello che riguarda l'Italia di piazza affari che gli investitori molti investitori dopo una forte accelerazione sulle quotate sono ora pronti a scommettere anche per una vicenda di una faccenda di rotazione di portafoglio sulle micro cap o small cap e sono molto contento di avere con noi il dottor Alessandro Rosso che è presidente e amministratore del gruppo TPS è il gruppo leader nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici in campo aeronautico e ha un particolare focus proprio sul segmento elicotteristico. La holding operativa del gruppo TPS è TPS SPA e la società dal 2016 è nel segmento elite di borsa italiana e il gruppo come gruppo proprio opera in vari settori nel settore aeronautico, automotive, difesa, ferroviario, navale, sistemi di trasporto a fune e così via. Allora dottor Rosso intanto partiamo dalle caratteristiche proprio specifiche del gruppo TPS e poi volevo capire anche come ha inciso questa pandemia in questo settore e anche ovviamente sui segmenti che di questo settore segue il vostro gruppo. Buongiorno, caratteristiche di TPS, TPS è un'azienda che come introduceva lei si occupa di servizi tecnici e di progettazione e ingegneria per diversi settori industriali, prevalentemente per il settore aeronautico, noi nasciamo nel settore aeronautico, cresciamo nel settore aeronautico ma poi si apriamo ad altri settori come quello automotive, come quello della difesa, come quello dei mezzi agricoli, crescendo sia per una crescita organica interna che per una crescita fatta attraverso una serie di acquisizioni svolte negli ultimi anni. Siamo un gruppo che conta oggi quasi 500 dipendenti, siamo un gruppo che è presente prevalentemente in Italia, seppur abbiamo due società all'estero, una in Svizzera, una in Polonia e una negli Stati Uniti che stiamo cercando di far partire in questo periodo, azienda che proprio per le sue caratteristiche di azienda e di servizio ha probabilmente saputo resistere meglio agli effetti della pandemia che lei ha introdotto, nel senso che noi grazie a un cambio di organizzazione e di impostazione che abbiamo dovuto mettere in piedi veramente nel giro di qualche settimana, abbiamo potuto rivedere il nostro modello organizzativo e continuare a erogare i servizi ai nostri clienti, lavorando in smart working o comunque mettendo in piedi metodologie di lavoro che ci hanno consentito di assorbire almeno in parte gli effetti di questa prima ondata della crisi, adesso poi vedremo cosa sarà della seconda. Certamente il nostro è un gruppo che ha saputo dimostrarsi resiliente agli effetti di questa pandemia, grazie alla presenza su diversi settori industriali, quindi abbiamo potuto concentrarci su quei settori che meno di altri hanno patito gli effetti di questa pandemia, grazie appunto alla possibilità di far lavorare una parte significativa delle nostre risorse in cosiddetto smart working o in piccoli gruppi, insomma avevamo un modello organizzativo da questo punto di vista abbastanza originale, piuttosto efficiente e quindi credo che al momento siamo riusciti ad assorbire abbastanza bene quello che è successo. I risultati della semestrale, guardando i dati anche della media del settore, sono buoni insomma perché avete paragonandoli, poi mi sembra che avevate dimostrato anche un consolidamento, c'è la posizione finanziaria netta che è migliorata, insomma la solidità patrimonio netto che è cresciuto, c'è una solidità economico finanziaria patrimoniale di rilievo mi pare insomma. Credo che questo sia uno degli aspetti di forza della nostra azienda, noi abbiamo certamente una solidità patrimoniale che ci permette non soltanto di guardare con ottimismo al prossimo futuro ma di continuare in questa strategia di crescita attraverso acquisizioni, attraverso acquisizioni mirate di competenze che possano allargare la nostra presenza sui mercati di riferimento, quindi noi non solo stiamo proteggendosi dagli effetti di questa pandemia ma stiamo continuando a guardare anche a potenziali ulteriori operazioni di crescita e questo grazie anche a una posizione finanziaria che certamente ci permette di poterci pensare. Mi sembra che una delle ultime sia stata MTB che avete fatto con questa coalizione, insomma la seconda parte mi sembra è il 2019, è stata un'acquisizione abbastanza importante soprattutto perché ci ha consentito l'ingresso in settori in cui non eravamo presenti, questa è la strategia che noi cerchiamo di adottare con le nostre operazioni di M&A, è un'operazione che ci ha aperto a ambiti ingegneristici dove eravamo meno presenti o dove non eravamo presenti a fatto, soprattutto è un'operazione che poi nel 2020 nonostante quello che è successo ci ha consentito di lavorare su un accordo commerciale con importanti operatori cinesi in questo caso nell'ambito dei mezzi agricoli, per i quali andremo a sviluppare un importante progetto di un sistema di trasmissione che è una delle cose più complicate. È una specie di cambio automatico se non ho capito male. È un cambio automatico che è veramente una delle cose più complicate che ci siano in ambito di progettazione meccanica, quindi è un accordo che veramente ci riempie di soddisfazione, non è il primo che l'azienda realizza, quindi non stiamo parlando di qualcosa di cui non siamo certi, non siamo esperti. È certamente un progetto molto importante che dimostra la nostra capacità anche nel contesto in cui ci siamo trovati nel 2020 di guardare a contesti commerciali, ad aprirci al mercato anche in momenti come quelli che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Senta, voglio capire una cosa. Voi ovviamente siete operate nel settore, siete leader nel settore tecnici e ingegneristi in campo aeronautico, però avete allargato, come ci ha spiegato un po' all'automotiva, alla difesa, ferroviario, eccetera, eccetera, sistemi di trasporto a fune. Voglio capire, di questi segmenti qual è quello che, almeno nel breve periodo, sta dando le migliori risposte in termini di domande, in termini di business. Allora, è chiaro che per rispondere alla sua domanda bisogna sempre rapportare il tutto a quello che siamo noi, alla nostra dimensione, è relativamente piccola, noi continuiamo a essere una piccola azienda, siamo ancora una piccola azienda, siamo un'azienda che si occupa di attività, di servizi tecnici, di attività di ingegneria, di documentazione tecnica, quindi la risposta che le posso dare è ovviamente riferita a quello che è il nostro angolo di visuale del mercato, senza nessuna pretesa di generalizzare. Certamente in questo contesto il settore aeronautico ha dato le risposte migliori, nel senso che essendo un settore, per certi versi anticiclico, essendo un settore che ha progetti normalmente a lungo termine, essendo un settore che ha comunque la necessità di mantenere in funzione le flotte esistenti, le nostre attività in questi ambiti, sia su nuovi progetti, sia sulle attività che svolgiamo per le flotte che volano, ha certamente continuato a dare una risposta interessante, anche qui ovviamente ci sono stati delle riduzioni di attività, dei rallentamenti su alcuni prosetti, però in generale il settore aeronautico per noi ha continuato a funzionare. Ha continuato in parte a funzionare il settore dell'oil and gas, dove nonostante ci siano stati qualche anche qui delle problematiche su alcuni contesti, però dal nostro angolo di visuale abbiamo continuato sostanzialmente a lavorare. Il settore automotive ha sicuramente performato molto meno, il settore automotive ha sofferto e sta soffrendo una crisi molto profonda e molto importante, proprio dal punto di vista, ripeto, dell'attività di ingegneria, dell'attività di progettazione. La possibilità che noi abbiamo di muovere risorse da un settore all'altro, la poliprofessionalità dei nostri colleghi ci ha consentito di sopportare questa situazione. Senta, lei ci ha parlato che insomma avete dovuto un po' ricentrare l'organizzazione proprio in poche settimane, a causa appunto degli effetti della pandemia, però da quello che ho letto nel semestrale voi siete impegnati in un progetto proprio di riorganizzazione societaria che è avviato nel 2019, ce ne può parlare? Ma sì, come ne anticipavo prima, noi siamo un'azienda cresciuta sia per linee organiche che per linee esterne, quindi noi abbiamo fatto nel corso degli anni una serie di acquisizioni. Una delle caratteristiche del nostro gruppo è quella di integrare rapidamente da un punto di vista operativo le realtà che acquisiamo. Noi gestiamo fin da subito queste realtà all'interno di quello che è il nostro sistema di gestione aziendale, tuttavia soprattutto quando si lavora con clienti importanti i brand, i marchi devono essere mantenuti almeno per un certo periodo. Una volta che questo problema viene superato possono seguire le operazioni che stiamo portando avanti, che abbiamo cominciato nel 2019 e che continueremo nel 2020, di ulteriore razionalizzazione, cioè dove abbiamo certamente il controllo del 100% di una società e dove non viene meno questa necessità di mantenere la società a sé stante, dove i clienti ci consentono questo tipo di soluzione, noi ovviamente preferiamo semplificare la nostra struttura organizzativa societaria a ridurre i relativi costi e quindi guardare da un contesto più semplice rispetto a quello che abbiamo avuto a nuove operazioni di M&A. Una curiosità, un settore dove ovviamente a livello di collaboratori, di personale, servono high skill. C'è questo problema di cui si lamentano molte imprese che in Italia spero se ne trovano poche, cioè c'è una offerta da parte delle aziende ma una domanda diciamo così meno pronunciata. Voi avete difficoltà a reperire queste high skill? Sì, sì, è certamente un problema che riguarda anche noi. Noi siamo un gruppo che anche nel 2020, nonostante il periodo che abbiamo attraversato, ha continuato a investire in formazione interna di risorse che possano poi essere inserite all'interno della nostra organizzazione. Abbiamo al nostro interno una funzione specifica che si occupa della ricerca di nuovi talenti, che si occupa della ricerca di questi profili professionali di alto livello. Devo dire, al momento riusciamo a far fronte alle necessità che abbiamo, ripeto, proprio anche attraverso investimenti in formazione, investimenti in percorsi di crescita che offriamo a risorse che prendiamo dall'esterno. Senta, le faccio probabilmente una domanda impossibile perché qui con la situazione in evoluzione di prevedibile c'è poco, però guardiamo al 2021, quale evoluzione prevedibile della gestione sarebbe immaginabile per TPS? Il 2021? Adesso cominciamo a vedere quanto dura il secondo dato della pandemia e poi ne ripariamo. Certo è che noi sicuramente abbiamo costruito nel 2020 un modello organizzativo per l'erogazione dei servizi che ci sono propri, certamente più flessibile, certamente più performante rispetto a quello che era in passato. Siamo stati obbligati, come tutti, a ripensarci e ridisegnarci per essere pronti a richieste diverse che provenivano dai nostri clienti. Certamente il nostro gruppo ha, come sottolineava anche lei, ha una solidità finanziaria, una solidità patrimoniale tale da potersi consentire di guardare non soltanto alla nostra attività, ma anche alla possibile acquisizione di altre attività che sul mercato risultino interessanti. Abbiamo una presenza su mercati differenti, quindi siamo in grado di percepire quali mercati, quali contesti, in quali ambiti noi ci si possa presentare per essere più performanti. Quindi io certamente guardo al 2021 con forte ottimismo. Aspettiamo che si chiuda questa problematica drammatica che stiamo vivendo, però poi certamente noi usciremo da questa situazione forti come prima e per certi versi anche più forti. Quindi saremo tra le realtà, mi auguro, che saremo tra le realtà che saranno capaci di aggregare altri soggetti per costituire un gruppo ancora più forte di quello che siamo oggi. Bene, dottor Rosso, è stato molto interessante perché ci hanno fatto uno spaccato di un settore altamente innovativo, molto chiaro e preciso. Ricordo che abbiamo parlato con il dottor Alessandro Rosso, che è presidente ed amministratore delegato di TPS, che è un gruppo che è leader nei servizi tecnologici e ingegneristici. Abbiamo visto primis in campo aeronautico, ma poi ha allargato il suo ambito d'azione a molti altri settori, dall'automotive alla difesa al ferroviario e così via. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.